La scrivania Sì, sì, qua vediamo Ecco, vedete la grande acquazione che si sta abbastendo sulla città di Prato con i grandi disagi Vedete, tutto allagato Oggi è il... Oggi è il... Scusate, c'è una cascata vera e propria Anche le fogne ci dica e dall'odore, secondo me, stanno saltando Adesso c'è anche un fulmine, quindi... Insomma, situazione abbastanza critica Siamo aggiornati sull'evoluzione Ecco, sentite, è anche un tono Ecco, è magrappi Grazie 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 Grazie